Allora, buonasera a tutti, siamo qua stasera per la quarta diretta con le conferenze, col ciclo di conferenze online della Società dello Zolfo, qua con me Zaffarana che è l'ospite di stasera, adesso poi ve la presenterò a dovere, io intanto volevo dirvi due parole su chi siamo noi, per chi ancora non ci conosce, io sono Dorian Bones e sono uno dei fondatori della Società dello Zolfo. La Società dello Zolfo è un centro di studi e ricerche sull'occultismo e l'esoterismo, nato cinque anni fa a Parma e in questi cinque anni ci siamo occupati di dare voce a diversi relatori e conferenzieri, abbiamo organizzato conferenze dal vivo, abbiamo organizzato dei convegni occidentali, abbiamo organizzato diversi corsi, corsi che andavano dalla Kundalini al Voodoo Gnostico, all'Enocchiano e ad altre pratiche magiche e dato il periodo abbiamo deciso di creare un ciclo di conferenze online per restare vicino a voi e per continuare la nostra opera che è quella di divulgazione. Normalmente siamo soliti, come vi dicevo, fare gli incontri dal vivo perché ci teniamo ad avere un contatto con le persone che seguono i nostri eventi. Però appunto adesso questo ciclo di conferenze sta andando molto bene, vi ringraziamo tra l'altro del supporto perché questa è la quarta e come prossimi appuntamenti invece dove speriamo ci si possa incontrare dal vivo, tra le varie attività abbiamo in programma a fine agosto un corso completo di tre giorni sulla magia del caos che sarà tenuto da Hagen von Thulien che è un grande esoterista europeo, tedesco, capo del Fraternita Saturni e dell'Ecclesia Agnostica Universalis, sarà un corso che percorrerà l'ABC del rituale magico di questa corrente magica, abbiamo ancora pochissimi posti disponibili, quindi nel caso siate interessati basta che andiate a vedere sulla nostra pagina Facebook. Ora adesso vi presento invece l'ospite Corinna, ciao intanto Corinna. Buonasera grazie dell'invito è molto piacevole per me essere con voi. Grazie mille a te di essere qua, allora due parole su chi sei per chi ancora non ti conoscesse, Corinna è laureata in archeologia classica, esercita la docenza in storia e ha al suo attivo diverse pubblicazioni anche in ambito divulgativo circa temi relativi la storia classica e medievale al mito e alle tematiche della storia religiosa dell'Europa. Ha pubblicato la hierogamia e il simbolismo del Graal per essere edizioni, l'origine pagana delle feste cristiane per Enigma edizioni, Demoni storie e tradizioni per Luxembourg edizioni e Somnium breve storia del rapporto fra l'uomo e il sogno di essere edizioni. Più un libro che ci parlerà in che è appena appena uscito, quindi lascerò fare due chiacchiere a lei, e più soprattutto il libro uno dei motivi per cui Corinna è qui con noi stasera che è questo libro che è il serpente all'ombra dell'aquila. Fondamenti di filosofia, metodo e magia del sistema di Telema. Ora dato che ci avete chiesto in tanti di parlare di Telema abbiamo deciso di chiamare una persona che potesse parlarne con serietà e tra l'altro quando alcuni di voi mi chiedono da cosa posso partire eccetera a livello di testo sul Telema, dico sempre che il testo di Corinna è un buon testo per la partenza perché è un po' un inizio per approcciarsi al Telema prima di andare su altri testi. Quindi questo è uno dei motivi per cui Corinna è qui. Adesso prima di farle la prima domanda noi di solito gestiamo con alcune domande che ci hanno fatto le persone dentro la società dello Zolfo e poi passeremo ai vari commenti. Quindi se avete delle domande vi invito a scriverle nei commenti che poi le selezioneremo e gliele provo. Allora Corinna, la prima domanda sicuramente per tutti quelli che sono in ascolto che è la cosa che ci chiedono fondamentalmente di più di tutte, la prima domanda sarà una domanda molto semplice ed è... Che sono le peggiori in genere, no? E poi uno ne sa che figura fa. Esatto. Allora, la prima domanda è che cos'è Telema? Beh, innanzitutto appunto grazie ancora di avermi invitata, grazie alla società dello Zolfo, grazie a te Lorenzo e grazie alle persone che hanno la bontà di seguirci questa sera. Io cercherò appunto di parlare di Telema, partiamo proprio dalla domanda che mai fatto, cercandola di inquadrare da un punto di vista della storia delle religioni, da un punto di vista della storia. Quindi che cos'è Telema? Ma ci sono tante possibili risposte, nel senso che per rispondere a questa domanda vi stanno già piovendo nella mente diecimila definizioni diverse dai diecimila punti di vista differenti, perché se la definissimo una religione bisognerebbe mettersi d'accordo su che cos'è una religione, se volessimo definirlo una filosofia bisognerebbe mettersi d'accordo su che cos'è una filosofia. Quindi scusatemi, intanto un filinino di mal di gola, non ho la Covid-19, ma ho un filinino di mal di gola, quindi scusatemi se ogni tanto tossisco. Per cui non è in realtà di semplicissima definizione. Io toglierei le castagne dal fuoco direndo, certo, dicendo che Telema è una proposta di matrice filosofico-spirituale e come tutte le proposte di questa matrice, specie nell'epoca in cui si è andata a costituire, quindi a cavallo fra il 1800 e il 1900, può anche essere considerata, può anche essere declinata in senso religioso pur di mettersi d'accordo ovviamente su quello che si intende per religione, perché ci sono degli elementi della parola religione che andrebbero bene, degli altri naturalmente no. Io vado avanti, fermami pure, io vado anche un po' come dire in senso generale, proprio perché so che in caso vengo fermata, quindi vado un po' a ruota libera. Abbiamo detto quando nasce? Nasce alla fine dell'Ottocento, perché Crowley nasce nell'ultimo respiro del XIX secolo e muore dopo essersi vissuto in pieno due guerre mondiali. Quindi vive proprio a cavallo di un momento di passaggio, perché cosa succede in quest'epoca, cioè fra il XIX e il XX secolo? Succede che cambia il mondo obiettivamente, da un punto di vista storico cambia il mondo. Non perché ci sono due guerre mondiali, la prima guerra mondiale e poi la seconda si susseguono per un delicato gioco internazionale messo in campo già da quello che succede con la restaurazione e il congresso di Vienna. Ma cambia il mondo perché si colgono pienamente gli esiti di due rivoluzioni industriali e perché il Novecento si avvia poi dopo appunto la seconda guerra mondiale a essere la fucina della contemporaneità. Quindi vivere a cavallo di questi due momenti storici significa vivere a cavallo fra due epoche differenti. E fare una proposta filosofica, spirituale, a cavallo fra queste due epoche, come è successo per Jung, come succede anche per Freud, come succede per Nietzsche, così succede anche per Crowley, significa in qualche modo intuire che la storia sta cambiando, che il mondo sta cambiando, che l'umanità si sta avviando a dei parametri, volente o nolente, differenti ai quali attingere. E quindi ovviamente Telema in sostanza risulta una proposta di rinnovamento, come la filosofia di Nietzsche risulta una filosofia di rinnovamento, come la proposta psicoanalitica-analitica di Jung si presenta in un modo de facto completamente innovativo rispetto a Freud, anche se il 1900 proprio la data è sancita dall'interpretazione dei sogni di Freud, che per la prima volta insomma ci mette in evidenza la struttura dell'essere umano. Allora io Telema la definirei precisamente questo. Poi qualcuno, e diciamo argomentandolo in questo modo. Poi qualcuno, chiedo scusa, io sento un leggero ritorno ma non ho acceso niente, forse è stato un attimo mio, vabbè. Qualcuno, molti, definiscono Telema una filosofia dell'occultismo e altri dell'esoterismo. Non è la stessa cosa naturalmente, non è la stessa cosa, anche se c'è la tendenza a confondere occultismo ed esoterismo. Se mi è permesso dico due parole molto brevi su questo. Allora, occultismo naturalmente da occultus, no? È la ricerca dell'occulto, cioè di ciò che è nascosto. Però attenzione, nascosto non nel senso che può essere trovato e capito, nel senso che non può essere trovato e capito, però può essere in qualche modo gestito. Per cui parliamo di qualche cosa di descrittivo e di mai interpretativo. Giusto o sbagliato che sia e non stiamo facendo, diciamo, una definizione. Mentre invece l'esoterismo può essere anche molto lontano dalla ricerca di qualcosa di metafisico, perché l'esoterismo è non un cosa ma un come, cioè è un metodo di indagine, di relazione col sacro, cioè con le proiezioni del nostro vissuto archetipico interiore nella fattualità esterna al soggetto, quindi di interazione fra il soggettivo e l'oggettivo, che però non ha una chiave sacralizzata all'interno di un sistema metafisico. Allora io sotto questo punto di vista fatico a vedere Crowley come occultista, specie appunto se diamo questo senso all'occultismo, ma casomai lo vedo come esoterista, anche perché lui lega molto la sua parabola di crescita personale, di maturazione filosofica, spirituale e quant'altro alla Golden Dawn, per esempio, che viene fondata nel 1888. Lui ci entra giovanissimo, poi la critica, l'abbandona, a torto ragione, per tre miliardi di motivi. La sua vita incontra, volente o nolente, la parabola della società teosofica e all'interno di Telema sussistono una serie di categorie mitopoietiche che sicuramente sono quelle che fanno parte della tradizione iniziatico-esoterica del rinascimento romantico inglese. Ecco, magari di passare a questa domanda che la voglio dire. Volevo dire solamente un'ultimissima cosa più, dicendo però Crowley cosa diceva che era Telema, quindi noi parliamo tanto, però si è preso la briga per fortuna di definirla per noi, l'ha definita un sistema scientifico di etiche. Credo che sia la definizione che taglia la testa al toro, perché sintetizza un po' tutto, cioè è un metodo per lo sviluppo di una etica, quindi una scuola filosofica di stampo misterico, come nella storia, più che una golden dawn, forse dobbiamo andare ancora nella tradizione greca. Ok, quindi come ti posso chiedere anche un'altra domanda che ci facevano era quando è che si può iniziare effettivamente a parlare di Telema, cioè a livello storico proprio, cioè quando si può dire che è nata questa filosofia a tutti gli effetti. Ma è una domanda bellissima secondo me, faccio veramente complimenti a chi la posta, ed è sicuramente una domanda difficilissima, perché anche in questo caso deve tener conto di una molteplicità di fattori, voi sapete bene per esempio che il Medioevo viene fatto coincidere con la deposizione dell'ultimo imperatore dell'impero romano d'Occidente, però in realtà c'è una diatriba quando inizia veramente il Medioevo e quando finisce veramente, dipende un po' dal punto di vista che si vuole affrontare. Allora, se si vuole parlare dell'aspetto mitopoietico, cioè dell'aspetto del mito, delle storie, che sicuramente da Platone in poi, su questo ci tengo, consapevolmente accompagnano i processi filosofici. Voi sapete che molti di voi avranno letto Platone, no? Permettetemi questa parentesi. Voi sapete bene che Platone parla tanto del mito greco, però Platone innova molto il mito, perché non usa più il mito greco come il mito greco era stato utilizzato, diciamo, dai primi lettori di Omero in poi, lo usa come un'allegoria filosofica. Da Platone in poi, l'uso di miti, di storie, di divinità, di immagini per supportare un pensiero filosofico arriva fino a Croli. Allora, chiusa questa parentesi, se vogliamo guardare l'aspetto del mito, la rivelazione del Cairo, la dettatura del libro della legge. Quindi, chiaramente, andiamo in un momento che oscilla fra il 1900 e il 1904, 1907, la costituzione della A, eccetera, eccetera. Insomma, questo arco temporale. Se vogliamo parlare di tele, ma da un punto di vista un po' più fattuale, forse sarebbe interessante pensare a un Croli che se ne esce dalla Golden Dawn, che se ne va in Messico, che inizia a fare delle esperienze molto soggettive e inizia a elaborare qualche cosa di diverso. Se vogliamo vederla poi sotto altri punti di vista ancora, quelli magari degli scritti un po' più maturi, che non di rado si contraddicono, anche pesantemente, con quelli più giovanili, allora forse Tele, ma inizia quando muore Croli. Ok. Allora, stavo leggendo le domande, quelle che avevamo ancora da farti, ti avevo interrotto prima, perché? Intanto colgo l'occasione per risalutare tutti che stasera siete veramente tantissime, ci sono quasi 200 persone con noi online, grazie del supporto che ci date sempre. È un onore, adesso mi agito. Eh no, infatti l'ho fatto apposta, no scherzo. Ecco. Se avete, vi ripeto che se avete delle domande, continuate pure a farle qui, che dopo tutte le nostre domande ci sarà un momento dove leggeremo le vostre. Allora, l'altra domanda era fondamentalmente, diciamo che nomi come Nuit, Hadith, Babalon, sono alcuni dei nomi del pantheon telemico e credo sia molto interessante dare un'idea agli spettatori delle principali figure di questo pantheon e degli archetipi che rappresentano. Certo, certo. Ma, allora, appunto, riprendiamo quello che dicevamo, no, tele, ma naturalmente come tutte le proposte filosofiche, poi soprattutto proprio quelle che si mettono a cavallo fra il 1800 e il 1900, no, impiega molto non solo, pensiamo a Nietzsche, pensiamo allo Zarathustra di Nietzsche, il modo in cui è scritto, no, assomiglia tanto per certi aspetti a Crowley, no, questo modo molto anche proprio profetico di parlare, no, è molto diffuso fra gli autori e Emerson, è molto diffuso, diciamo, dalla seconda metà dell'800 alla metà del secolo successivo, no. Allora, ovviamente a un tale sistema corrisponde necessariamente il ricorso a degli archeomotivi che, innanzitutto, perché hanno a che fare con l'Egitto, no, perché tu hai detto due dobi, hai detto Nuit, no, poi hai detto Nuit, allora il nostro pensiero corre immediatamente alla religione egizia, alla De Anut, per esempio, no, io non sono un'egiptologa, quindi non mi permetto di parlare più di quel tanto dell'Egitto, però tutti quelli che anche solo un po' appassionati della storia egizia hanno letto questo nome, li sarà venuta in mente, no, la Dea che rappresenta il cielo, no, nel cui corpo ritornano le anime in forma di stelle. Poi Raorquiti, il Dio Sole, il Falco, eccetera, eccetera. Perché divinità egizie? Ma ci sono due ordini di considerazioni da fare. La prima è la volontà di Crowley di legare la proposta spirituale e filosofica del Telema al mondo egizio. Questo non lo notiamo solamente nella costituzione di un panteon che ha delle divinità principali che deformano riportando il nome delle divinità egiziane, ma lo notiamo anche dalla storia mitica del Telema che è ambientata al Cairo, per l'appunto. Quindi c'è questa terra d'Egitto che salta sempre fuori. Perché l'Egitto? Per due motivi. Il primo, un po' più banale, quindi lo dico per primo, però anche se è banale, secondo me va comunque considerato perché era l'epoca del mal d'Egitto. L'Ottocento, l'Ottocento soprattutto inglese, nord europeo, dalla metà dell'Ottocento viene investito dal mal d'Egitto. Se vogliamo, per certi aspetti già dopo i viaggi di Napoleone, dopo la campagna d'Egitto inizia un po' questa moda. Però il mal d'Egitto fu una caratteristica importantissima della cultura poi romantica inglese, ma anche tedesca e per certi aspetti anche francese. Quindi sicuramente era un dato suggestivo di grande importanza e non vedo perché non utilizzarlo, visto che Platone utilizza i miti che erano di moda nel suo tempo, che facevano breccia nell'animo delle persone del suo tempo. Quindi è un ricorso artistico, estetico e al tempo stesso intelligente. D'altro canto vi è anche da dire che questo legame fra l'Egitto e le tradizioni iniziate e misteriche, salute, è qualche cosa che comunque esisteva già da diversi secoli, a partire soprattutto dall'ellenismo, cioè a partire da Alessandria d'Egitto, che fu un faro, quindi non è quell'Egitto dei faraodi, il senso stretto, insomma è l'Egitto post-Alessandro Magno, che sicuramente da un punto di vista storico ha svolto un ruolo fondamentale nel creare una coinè culturale, dalla quale le tradizioni iniziatiche e misteriche hanno pescato parecchio, per cui l'Egitto ci stava benissimo, insomma, sotto tanti punti di vista. Però in realtà a queste divinità egizie non corrisponde nulla che abbia a che fare con la teologia egizia, perché la dea del cielo e delle stelle telemica non è la nut egizia separata dalla terra, dal dio Shu, eccetera, ma è in realtà simile a un principio del Tao fondamentalmente, è il simbolo, diciamo, di una sorta di primo motore immobile, perché Nuit è il tutto e nulla al tempo stesso, cioè è il Big Bang, è quel nulla dal quale all'improvviso e senza che ci sia possibile spiegarlo, si è ingenerato il tutto, che è E2, no, infatti, si è ingenerato il tutto. E per noi è difficile spiegarlo, perché come Hawkins disse giustamente, cosa c'è prima del Big Bang non si può dire, perché prima del Big Bang non c'è un prima, perché non c'è lo spazio-tempo. Allora Nuit è un po' questo velo dello spazio-tempo, è il luogo dove si annullano tutte le dualità. Al tempo stesso, essendo il luogo dove si annullano tutte le dualità, è il luogo dove risiedono tutte le dualità. Ed è molto bello il fatto che, sicuramente mutuando questo concetto dalla filosofia indiana, questa capacità, diciamo, del Tao primordiale di farsi due, cioè di farsi il luogo della vita, e quindi essendo un luogo di vita è un luogo di definizione, quindi di scontro, di battaglia, si è assegnato all'immagine della coppa del contenitore, che è la coppa di Bavalon, che è la coppa delle abominazioni, ovviamente perché abominazione è tutto ciò che è la contraddizione, ma rientrando in questa coppa di divisione, ritorna appunto all'unità. Quindi abbiamo queste due, diciamo, deità femmine, di cui una in realtà è femminea, ma perché è un grande utero formativo, ma in realtà ovviamente è una dea non dea, è un tutto e un nulla, è una deità, è una sorta di coscienza infinita, nullificata, è un concetto, secondo me, di una raffinatezza filosofica incredibile, senza i problemi ontologici peggiori che abbia affrontato la filosofia occidentale, e l'altra invece è l'immagine della madre degli uomini, della madre terra, che risolve le dualità, le contraddizioni nell'unità, e questa è Bavalon. Poi abbiamo delle deità maschili, diciamola così. La prima è Adit, Adit che erroneamente, naturalmente in un'ortodossia di Panteonegizio, ma abbia capito che nel Panteonegizio in realtà non c'entra assolutamente niente, sarebbe l'ideale sposo, quindi il tutto e il nulla che si sposano per dar vita a un terzo prodotto. Essendo però una polarità maschile, forza Nuit, che è già il Tao perfetto, a farsi l'altra polarità femminile. Quindi la sua stessa esistenza forza il nulla a diventare una parte del tutto, e questo dà luogo alla ciclicità. E poi abbiamo, e io lo trovo di una raffinatezza incredibile, e poi abbiamo il terzo elemento, che è Raor Kuit, che è lo zeitgeist, è lo spirito del tempo, che nell'ambito della filosofia della storia di Tele, ma identifica l'epoca contemporanea. Io trovo che, se posso permettermi un'opinione funzionale, anche se non sono qua a parlare a livello personale, io la trovo molto interessante, perché la descrizione allegorica che viene fatta di Raor Kuit, io trovo che sia veramente veramente molto molto in linea con quella che è l'epoca della nostra contemporaneità. Quindi trovo che nella descrizione di questo Dio che rappresenta lo spirito del tempo, ci sia una notevole capacità di preconizzare effettivamente quello che sarebbe stato poi il novecento, il duemila, quella che sarebbe stata poi l'epoca orusiana, diciamo l'epoca dominata da questo grande motivo. Scusatemi, bevo un secondo. Intanto vedo che stanno iniziando a fare le prime domande, noi dopo le leggeremo, le selezioneremo e le leggeremo. Intanto voi continuate pure a farle se vi vengono in mente mentre Corina parla. Chiedo di scusarmi qua, tra bevute soffiate di daso, scusatevi. Guardate, anch'io ho una sete incredibile. Che cosa dicevamo Raor Kuit, questo zeitgeist, questo spirito del tempo? E come viene descritto? Viene descritto da Crowley stesso come un ragazzino, anche capriccioso, violento, rapido, irruento, veloce, di guerra e di distruzione. Di guerra e di distruzione, interessante questo. E cosa distrugge questa divinità? Beh, distrugge il passato. Beh, giustamente, qualunque storico potrebbe dire ogni epoca ha distrutto quella precedente. La rivoluzione francese allora ha distrutto tutto l'anziano regime e in fondo con un colpo solo si è portata dietro. Migliaia e migliaia di anni. È vero? Infatti, e qua mi riaggancio, vedi come siamo circolari come l'Uroboros che si stende alle tue spalle, io parlerei di Telema dalla rivoluzione francese. Anzi, parlerei di Telema dalla metà del 1700, dalla prima rivoluzione industriale, io credo che, per dirla ai termini di Televici, Rao Urquit si sia seduto sul trono del sol che nasce, del sole storico che nasce, con la prima donna che si è seduta al primo telaio a vapore. Perché quello è l'inizio del capitalismo, dell'industrialismo, dell'era moderna, alla fine del feudalesimo, di fatto, che in realtà è dell'anzian regime. Per cui, in realtà, ecco, da un punto di vista storico, secondo me, inizia lì. Poi, quando realmente si realizza, vabbè, d'accordo, questi sono discorsi storici. E quindi, questo in estrema sintesi, perché noi abbiamo un'ora, quindi, insomma, non possiamo chiaramente parlarne troppo, potremmo un po' riassumere il Pantheon Telemico. Poi, come tutti i Pantheon, se potrebbe parlare di 20 ore della stessa divinità, se volessimo parlare di Atena, del Pantheon Greco, stiamo qua fino a domani mattina. Poi, in estrema sintesi, uno dice, è la dea della guerra e dell'intelletto, poi in realtà non è vero e mille altre cose. E così, anche, insomma, queste divinità, queste deità principali, che ovviamente non hanno, non devono inserirsi in un discorso di carattere ontologico. Si tratta di un ricorso al mito come quello che abbiamo, insomma, detto, detto poc'anzi. Bene, allora, vado avanti con le domande, credo che sia stata assolutamente risposto alla domanda. Come terza domanda, invece, volevamo spostare un po' il discorso, nel senso che, come abbiamo titolato questa conferenza, Telema, filosofia e magia. tra l'altro, tu hai fatto da pochissimo un video sulla magia che devo ancora guardare perché è proprio appena uscito e vi consiglio di andare a vedere, però a questo punto ti faccio una domanda sulla magia. Intanto, magari, dare un input di che cosa sia, nel senso alle persone che ci ascoltano, per dare una sorta di definizione. E poi, e poi dire, sostanzialmente, in che modo l'aspetto magico, diciamo, che c'è all'interno del Telema. Ma, allora, guarda, ripeto quello che, perché l'ho fatto apposta a quel video, nel senso che l'ho fatto proprio come un po' prodromico a questa serata e l'ho fatto in tuo onore. Ma, allora, ripeto quello che in parte ho detto nel video. Innanzitutto, va detto che, in ambito archeologico, antropologico, storico, su che cos'è la magia ci sia un ampio dibattito. Perché? Perché, innanzitutto, se si parla di magia, bisogna distinguerla da due cose, cioè dalla scienza e dalla religione, che sono due elementi che sono stati fondamentali per definire la magia. Cioè, non a caso, Crowley stesso li riprende nella sua definizione di magia e lo fa perché era un uomo davvero molto colto e butta dentro tante cose nei suoi scritti che a volte lascia un po' buttate lì ma in realtà hanno tanto dietro di cultura molto assorbita. Era un uomo molto poliedrico da un punto di vista intellettuale. Allora, fondamentalmente l'antropologia si è chiesta per tanto tempo se potesse sussistere una differenza per esempio fra la magia e la religione. Allora, che cos'è sotto questo punto di vista la magia? Beh, possiamo dire che la magia è un modo di relazionarsi con il mondo all'esterno del soggetto. È la capacità di gettare un ponte fra quella che è la fattualità e quella che è l'interpretazione della fattualità cioè il riverbero psichico, la trasformazione di un evento in un fenomeno psichico questo per restare con Mirce Eliade che definiva il sacro un'istanza l'uomo ha bisogno del sacro perché attraverso il sacro va a significare il fenomenico va a significare il fattuale al di fuori di lui. Ora, questa significazione avviene per tramite di un bacino di simboli di allegorie che Jung per esempio aveva chiamato l'inconscio collettivo. Allora, in questo senso possiamo dire che è una domanda che non prevede una risposta nel senso che non ci siamo ancora arrivati a una risposta ci sono tante possibili risposte ma potremmo allora dire che mentre la religione fa questo ponendosi come collante sociale e quindi prevede diciamo un kit di archetipi di immagini attraverso i quali interpretare e leggere il mondo e quindi appunto funziona come aggregante sociale però questo kit è uguale per tutti quelli che vogliono stare dentro una determinata comunità questo da un punto di vista antropologico ok creando quindi un setting e la magia invece è un percorso individuale quindi io lo faccio al di là della religione lo faccio tramite un ricorso ai miei archetipi che in parte saranno miei in quanto condivisi naturalmente con la cultura ma in parte vengono dal mio vissuto allora c'è chi ha detto questa è essenzialmente la differenza fra magia e religione la magia non è un collante sociale ma è un modo di relazionarsi all'alterità e per alterità si intende anche il mondo fenomenico al di là dell'interpretazione psichica dello sesso sulla base di se stessi e non di paradigmi condivisi col collante sociale c'è chi poi ha definito la magia una prescienza io personalmente non sono d'accordo per il semplice motivo che scienza e magia si pongono obiettivi radicalmente differenti perché la scienza semmai come certe religioni monoteiste si pone lo scopo di trovare la verità e di condividerla naturalmente col metodo scientifico la religione con la fede è chiaro però lo scopo è lo stesso mentre la magia non si pone questo scopo essendo appunto una cosa che non è declinata a nessuna necessità di condivisione quindi la magia è essenzialmente questo la capacità di proiettare cioè di significare la realtà attorno a noi non per niente Crowley nello stesso commento del libro della legge tutti quelli penso che stanno seguendo la diretta di questa sera sanno che che Liberlegis è diciamo è uno dei testi più interessanti della filosofia telemica per tutta una serie di ragioni e Crowley vi fa almeno tre commenti e in uno di questi lui dice che la magia è il saper vivere ma lo scrive proprio lui e che purtroppo gli tocca fare i conti con chi si convince che magia sia tutto quello che i ciarlatani i buffoni hanno messo in campo ma che in realtà lui dice proprio se io per magia intendo il saper vivere l'arte di vivere la filosofia di vita e quindi insomma per cui questo è fondamentalmente il significato di magia ma no che dico io ci tengo a sottolinearlo questa sera io non sto dicendo niente che dico io prima che dice l'antropologia ovvero la storia insomma un po' dell'antropologia e poi che dice Crowley poi uno può non essere d'accordo naturalmente e questa era la prima domanda la seconda qual era? ok beh allora la seconda sempre in ambito diciamo magico vabbè allora passerei a c'è una domanda collegata che era sembra restando in ambito magico possiamo dire che sicuramente moltissimi testi e nuove scuole prendono a piene mani dal lavoro di Crowley certo credi che questo sia stato il più delle volte frainteso proprio per questo approccio fai da te poco ortodosso di molte persone che si avvicinano a questi scritti? ma sai cosa c'è Lorenzo che purtroppo Crowley sicuramente di tanti difetti che gli si affibiano raramente si ha il coraggio di affibiargliene uno che secondo me è il suo peggiore cioè Crowley era un grafomane e quando scriveva si capiva pochissimo perché il suo modo di scrivere era molto pomposo la sua retorica ricca di potassi era molto 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 erudita ma molto pesante ricca di allusioni complesse che richiedevano e richiedono un background specifico relativo ai fatti a cui lui fa riferimento e questo a volte ricorda il modo di fare di Dante che chiama in causa nell'inferno dei personaggi del gossip fiorentino Crowley ha questo modo di fare a volte anche lui tira in ballo delle cose che devi essere ultra specialista in una roba o nell'altra per andare a capire il senso della allora tutto questo produce il fenomeno un fenomeno ovvio e cioè che Crowley 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 non la gente che ha scritto di Crowley vi compresa io ma Crowley Crowley è palosissimo spesso quando lo si legge la gente fa fatica a leggerselo ma giustamente perché poi ha una prosa molto ottocentesca assomiglia molto veramente ricorda tanto Emerson per certi aspetti anche Kant ricorda molto questi filosofi complicati a me lo faceva anche un po' apposta era un po' la sua cifra allora è chiaro che il fraintendimento è dietro l'angolo perché bisognerebbe è chiaro un po' come Nietzsche io guarda sono una grande fan di Nietzsche se posso permettermi un'osservazione personale però sarebbe assurdo negare che Nietzsche è pesante da leggere ma non è pesante in senso negativo è pesante nel senso che richiede di essere molto concentrati e di leggere tutta la sua opera perché siccome la filosofia di Nietzsche è molto slegata e non lo dico perché mi voglio mettere a parlare di Nietzsche ma perché Crowley è la stessa identica cosa anche Crowley ha una filosofia molto slegata e poco sistematica allora il problema è che bisogna leggersi l'opera omnia di Crowley perché lui ti dice una roba in un testo e l'esatto opposto in un altro allora a me vieni in mano un testo ma guarda che Crowley qua dice sta roba però poi se tu leggi tutta la sua opera come se leggi tutta l'opera di Nietzsche ti arriva al fondo un messaggio diverso e magari ti arrivano delle chiavi interpretative per esempio nelle opere dell'anzianità arrivano delle chiavi interpretative importanti per le opere della giovinezza per esempio poi la filosofia di Crowley Crowley ho detto è divisibile in fasi ci sono delle fasi in cui obiettivamente Crowley sostiene delle cose differenti quindi adesso non la voglio fare lunga però è chiaro che è talmente ricco il suo pensiero è talmente difficilmente approcciabile a meno di determinate condizioni insomma non è un filosofo immediato è talmente complesso stratificato e variegato che si fa molto presto a prendere quello che fa comodo e a dimenticarsi tutto il resto già si fa di base pensa a Nietzsche nazista come se l'oltreuomo di Nietzsche avesse vagamente qualcosa a che fare con il nazismo e non c'entra assolutissimamente niente però è molto semplice farlo ci sono anche delle persone di estrema destra che prendono inspiegabilmente secondo me Schopenhauer quando Schopenhauer è stato il papà della psicanalisi più ancora di Freud per cui queste cose succedono allora Crowley ha rappresentato uno spartiacco importante perché ha portato il metodo scientifico all'interno della cosiddetta magia facendo piazza pulita di tutta una serie di scemenze lui tra l'altro era anche un diciamo un niciano quindi con questo è detto tutto perché appunto ormai sono già 40 minuti non possiamo star qua più di quel tanto beh vabbè adesso tu comunque stai tranquilla che tanto guarda la gente sembra ancora assolutamente interessata quindi non abbiamo fatto dei morti fino ad ora e quindi è chiaro che avendo espresso delle innovazioni importanti adesso lasciamo perdere quali quando eccetera e avendole però espresse in un modo assolutamente complesso e a volte anche molto contraddittorio è un filosofo difficile ecco ma non bisogna vergognarsi perché a volte c'è un po' come dire il vezzo di far finta che degli autori molto pesanti ci risultino semplici per sembrare più intelligenti Kafka è magnifico ma è sicuramente è molto più pesante di un Duma per esempio da leggere ecco ma questo non vuol dire abbiamo Mattia che dice si può anche passare all'ora gentilissimo Mattia faccio fatica a leggere il nome potete fare anche tre ore insomma sembra che le persone da casa siano ancora molto interessate all'argomento bene grazie 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 mille ecco allora per concludere insomma è chiaro è chiaro evidente che avendo queste caratteristiche Crowley da un lato ha influenzato praticamente la totalità dei movimenti culturali fino ad arrivare agli hippie e dall'altro quindi ha influenzato la storia europea lasciamo stare nel bene o nel male chiaramente non ci interessa però dall'altro è un po' come il prezzemolo nel senso spunta dappertutto ma mai nella sua totalità è sempre qualcosa che ha detto che piace viene preso un po' decontestualizzato effettivamente questa cosa qua è capitata anche a me e non solo cioè mi ricollego alla domanda che adesso ti farò che è questa cioè quando qualche persona si avvicina a me per magari quello che scrivo quello che dico e mi chiede qualcosa da leggere sul Telema e su Crowley in particolare è abbastanza difficile proprio per il ragionamento che facevi tu cioè nel senso stiamo parlando di un autore che ha fatto tutto un percorso cambia tantissimo di libro il libro cioè c'è tantissimo di questo autore e sono pienamente d'accordo con il dire che una volta che ci si è avvicinati alla sua filosofia va assolutamente detto tutto detto questo però dato che in ascolto ci sono tantissime persone che magari stanno ascoltando si interessano a Telema vogliono avvicinarsi vogliono iniziare a leggere qualcosa che cosa consiglieresti tu a una persona che dice bene ho visto la conferenza le cose che ha detto Corina mi interessano mi affascinano come ci si può approcciare all'opera di Crowley cioè come che libri li consiglieresti tu all'inizio proprio da una persona che non ho ancora letto niente guarda è una bellissima domanda la tua ed è una domanda alla quale non mi vergogno di dire che non non ho ancora oggi elaborato una risposta soddisfacente perché è veramente come chiedermi da dove parto con Nice ma voglio spiegarlo appunto il motivo no dice ma guarda parti dalla Gaia Scienza benissimo uno parte dalla Gaia Scienza e si fa un'idea di Nice no poi prende un'altra opera e si fa un'altra idea di Nice allora è molto difficile per me rispondere a questa domanda perché far partire una persona da un'opera di Crowley significa fare in modo che quella persona parta con un'idea di Crowley e non con un'altra e quindi è molto difficile di base di base diciamo così io suggerirei le opere della maturità Magia Senza Lacrime che è sicuramente un'opera molto bella anche se naturalmente va letta rigorosamente come un'opera di filosofia Margherita Fortuna infatti aveva scritto proprio in contemporanea ecco siamo siamo state sulla anche per me è un libro che io di solito lo metto tra quelli da cui iniziare sì perché è un'opera matura è un'opera nella quale diciamo il forse il Crowley che andava a conquistare la sede della Golden Dawn vestito da Scozzese per fortuna era finita ed era iniziata era una fase molto più matura quindi io direi diciamo le opere della maturità se si vogliono prendere i romanzi però ecco si sappia che sono romanzi l'importante è non pensare che Crowley abbia ucciso nove volte un gatto se se si vogliono prendere le poesie l'importante è che si sappia che Crowley è stato anche un poeta a mio avviso ma personale poi giustamente qualcuno potrebbe dire ma chi se ne frega di quel che pensi tu ma così diciamo pur parlermi piace ogni tanto dire la mia poi se inopportuna me lo direte a mio parere è stato un discreto poeta ci sono delle opere interessanti ci sono dei testi che veramente a livello poetico secondo me hanno dei dei passi notevolissimi del resto lui aveva studiato anche letteratura inglese all'università e si vede insomma che è una persona che aveva a che fare che conosceva bene la letteratura era uno come si usa dire che sapeva tenere in mano la penna perché ci sono insomma Libro 65 il famoso Libro 65 è sicuramente un testo lirico di notevole spessore ma molto più banalmente l'Inno a Pan il famoso Inno a Pan che si inserisce nell'ambito della teurgia ma poi andrebbe in un discorso che non finisce più è una bellissima opera come pittore non ho mai nascosto che non mi piace per nulla però nella sua rappresentazione artistica va naturalmente anche quello contestualizzato nelle varie mode artistiche del suo tempo che prevedevano a volte certi stilemi che Crowley rimette in campo se invece si vuole appunto il Crowley filosofo si prendano le opere della maturità se si vuole un po' sognare col Crowley e Harry Potter senza stare a crearsi troppi problemi si prende il buon vecchio Magic anche se in realtà a leggerlo bene il Magic contiene delle chiavi filosofiche di enorme spessore perché non è mai banale su questo Crowley mi sento se posso dirlo posso esprimere questo apprezzamento devo dire che non è mai banale per certi aspetti come disse anche in Troviglie era un uomo senz'altro geniale anzi ti dico anche di più Magic sicuramente è uno dei libri che avrò letto tre o quattro volte la prima volta l'ho letto a che avevo ventun anni e poi l'ho letto tipo quattro anni dopo poi l'ho letto quattro anni dopo insomma l'ho letto a distanza di tre o quattro anni è un po' come è un'opera a mio parere questo è fondamentale proprio certo proprio magico è un di quelle opere che ogni volta che la rileggi a distanza di tre o quattro anni ti cambia radicalmente c'è una cosa incredibile che pochissimi libri sono riusciti a fare con me almeno personalmente c'è il Magic se io mi ricordo cosa pensavo cioè quello che dopo che l'ho letto a vent'anni le sensazioni che ho avuto l'anno scorso quando l'ho riletto cioè hai proprio cioè le chiavi che ci sono dentro quel libro le riesci ad aprire proprio grazie a tutti assolutamente guarda io concordo assolutamente cioè trovo che il Book 4 che il Magic sia assolutamente un testo poliedrico veramente dalle molteplici chiavi di lettura ahimè da quella alla Harry Potter che è quella assolutamente banale nel senso magari c'è davvero che si mette lì a quella invece più intensamente filosofica ecco e se letto bene contiene Crowley dalla Z però appunto come dici giustamente te va letto bene in fasi diverse della vita come unice per l'appunto cioè sono filosofi sicuramente sì insomma sicuramente se le persone che ci stanno ascoltando lo leggono lo troveranno affascinante e illuminante anche se magari per l'inizio molto difficile per quello io prima a prescindere dal fatto che Corinna è qui ho consigliato il suo libro perché è l'approccio diciamo a Crowley e al Telema quello che molte volte risulta un po' ostile cioè tu vuoi avvicinarti a qualcosa che io ad esempio quando mi ci sono avvicinato io cioè erano mazzate cioè nel senso io tu dovevi leggere questo questo quest'altro non è che c'era un gran che che ti avvicinasse a queste opere mentre invece il tuo libro secondo me è ottimo per una persona che si vuole avvicinare tra l'altro un'altra cosa grazie davvero sono onorata dalle vostre parole tra l'altro poi lasciamo anche qua i link eccetera un po' di bibliografia ho preso dalla mia libreria anche questo che è Macchie Bianche ah giusti una raccolta di poesie di Crowley della Diana Edizione parlava di Crowley poeta per l'appunto esatto esatto mi è piaciuta moltissimo questa raccolta di poesie mi è stata regalata un anno fa e l'ho trovata molto bella quindi se questa è la mia personale opinione quindi insomma però Macchie Bianche di Crowley mi è piaciuto molto bene adesso allora io prima di parlare un po' di te il resto sono le dieci e mezza di sera possiamo anche citare Macchie Bianche di Crowley dunque ti vorrei fare qualche domanda a questo punto prima di passare alle tue attività e al tuo ultimo libro che ci hanno fatto praticamente le persone anzi quasi quasi finisco prima con te in modo che le persone in questi ultimi dieci minuti se avete ancora delle altre domande scrivetele che dopo le leggo tra le domande che ti volevo fare Corinna era intanto questa so che tu sei un membro del CTA 102 un altro centro di studi ricerca a cui partecipo anch'io e che ho trovato sempre molto interessante per le conferenze che fate che pubblicate sui vostri canali e quindi io ti volevo chiedere un po' che cos'è già che sei qui con noi che cos'è il CTA 102 di cosa di cosa vi occupate ecco ma io ti ringrazio davvero so che sei anche tu nel nostro CTA e mi fa molto piacere e ti ringrazio per la tua stima per la tua partecipazione il CTA è un centro culturale in senso lato nel senso che ospita mettiamola così seminari conferenze dibattiti presentazioni di libri anche di nuovi di nuovi autori occupandosi un po' della cultura a 360 gradi chiaramente non è un mero palcoscenico c'è dietro una selezione non eccessivamente interferente perché altrimenti sarebbe lo specchio dei suoi fondatori mentre la cultura non deve mai avere un colore non deve avere una religione non deve avere una visione politica deve essere puro show dell'anima e noi speriamo insomma nonostante questa Covid-19 stia creando dei problemi giganteschi a tutti di poter andare avanti a fare qualcosa di interessante come del resto faccio i complimenti a voi per le vostre iniziative e come spero insomma che quelle quattro cose che sono riuscite a dire questa sera possano essere state di qualche interesse purtroppo anzi da adesso poi arriveranno le domande dei nostri ascoltatori che sono stati qua fino adesso allora grazie intanto di questa risposta qua ok invece prima di leggerti le domande ti chiedo abbiamo parlato praticamente prima dei libri che hai pubblicato ma ho tenuto per ultimo quello che hai appena appena pubblicato so che è uscito un instant book da poco annuncia se lo teni insomma di che cos'è e di cosa si tratta già che sei qua io tra l'altro ringrazio Formamenti Sedizioni per avermi contattata io non sapevo neanche che esistessero gli instant book l'ho scoperto con questa richiesta di questa casa editrice in realtà è un libro che io ho scritto sulle grandi epidemie della storia e viene venduto in un cofanetto con altri due testi che sono scritti da Rossana Carne la dottoressa Carne che è una iamatologa e politologa si è occupata della storia delle armi chimiche dell'avvocato Valeria Giacometti della società criminologica italiana che si è occupata invece dei delitti connessi all'impiego delle armi batteriologiche delle armi chimiche e questo è stato fatto anche per una raccolta fondi in sostegno della Croce Rossa e degli altri enti insomma deputati a tentare di respingere questa bestia terribile che ci sta ci sta attanagliando e sta distruggendo le vite di tutti noi e per questo nuovamente ringrazio le persone come te che cercano insomma di vivacizzare questa quarantena facendo in modo che la cultura comunque non si fermi esatto esatto anche perché insomma secondo me come scrivevo qualche giorno fa il fatto che ci ritroviamo chiaramente ognuno con i propri problemi a vivere chiusi sostanzialmente nella nostra casa senza più uscire eccetera possiamo viverlo anche in un certo senso come una sorta di ritiro quindi iniziare a fare cose che magari normalmente non facciamo quando magari siamo presi dal tran tran della vita quotidiana leggiamo meno facciamo meno cose siamo meno con noi stessi questo secondo me è un un ottimo momento per almeno ritornare a leggere a scrivere a fare arte a fare quello che ci piace e questo è anche il motivo per cui noi il CTA 102 e tutti gli altri centri di studi e ricerche stanno cercando di portare queste cose online proprio per insomma stare tutti insieme vicini a scambiarci delle informazioni assolutamente bene allora adesso partiamo con le domande partirò a ritroso leggerò quelle un po' più importanti allora Sara Montenegro che saluto Corinna vorrei chiederti un'opinione sul ruolo della donna e in generale della femminilità nella filosofia telemica come si chiama questa persona? Sara Montenegro ciao Sara grazie per la bellissima domanda come la domanda che ha fatto un ascoltatore prima anche questa domanda è una domanda molto bella ed eccezionalmente complessa per la quale ti ringrazio perché adesso staremo qua altre due ore no sto scherzando naturalmente allora il ci sono anche in questo caso diversi aspetti da avaliare iniziamo dalla mera filosofia di Telema allora da un punto di vista strettamente filosofico Telema è sicuramente una disciplina femminista mettiamola così Crowley nello stesso commento al Liberlegis abbiamo detto che questo testo un po' strano un po' particolare ma fondamentale sicuramente nella filosofia del Telema ha almeno tre commenti diciamo ne consideriamo almeno tre e Crowley all'interno di questi più volte si esprime per la necessità di una donna di un modello femminile che vada a superare quello della donna vittoriana perché ricordiamoci quando nasce e quando vuole Crowley naturalmente quindi lui propende per un diciamo è un femminista antilitteram la donna ha gli stessi diritti dell'uomo e la donna e questo è molto interessante visto che c'è una bassoneria che non accetta le donne ancora oggi Crowley mette l'uomo e la donna sullo stesso gradino nell'ambito della capacità iniziatica che cosa vuol dire la capacità iniziatica la capacità di autosvilupparsi mettiamola così anche se in telema non c'è propriamente un miglioramento anche qua entriamo in un tema complesso perché in telema non c'è un vero e proprio miglioramento spirituale se no non sarebbe diversa dal cristianesimo però diciamo nell'ambito dell'esecuzione di un percorso alla donna viene riconosciuta la stessa dignità la stessa capacità che viene riconosciuta dall'uomo e non è una cosa banale a quel tempo certo c'è dietro sicuramente anche l'insegnamento di una golden dawn sanno tutti molto bene chi era la moglie di Matters che è stato uno dei fondatori della golden dawn c'era l'esempio di grandi figure femminili che si erano immesse nel panorama iniziatico da infortune prima ancora la jelena blabalski quindi però comunque non è banale l'accettazione di questo per nulla da un punto di vista poi squisitamente teologico o meglio mitologico perché a mio avviso Teleman non ha una teologia perché non ha divinità Cro le dice io proclamo il mio ateismo quindi insomma diciamo da un punto di vista di consapevole mitologia di modello platonico mettiamola così beh abbiamo questa deità assoluta questa sorta di immagine del tau primordiale che però è affidata non all'immagine di un anus di dio ma all'immagine di un utero femmineo la la mater dei fenomeni la mater degli uomini è la shakti è l'energia creatrice femminile questi sono sicuramente degli elementi interessanti direi molto taoisti ma rivisitati in un'ottica di percezione di un ruolo profondamente diverso della donna nella nella società quindi io direi che sotto questo punto di vista c'è chi ha tacciato Crowley di di maschilismo ma appunto per le ragioni di cui sopra Crowley è stato tacciato di essere cristiano perché vi giuro c'è chi lo ha tacciato di essere cristiano c'è chi lo ha tacciato di essere satanista c'è chi lo ha tacciato di essere materialista c'è chi lo ha tacciato di essere religioso cioè pare la canzone di Guccini cioè nel senso non so che cosa manchi all'appello qualcuno ha anche detto maschilista poi veramente di maschilista in Crowley onestamente cioè nel senso io non sono qua a dire la mia Crowley è bello Crowley è brutto queste poi sono le considerazioni di chi se lo va a leggere però se uno mi dice Crowley era maschilista ma no poi magari lui avrà avuto un rapporto complicato con le donne però se noi ci mettessimo a guardare quello che hanno fatto tutti i vari artisti e filosofi nella loro vita privata insomma guardiamo alla filosofia perché altrimenti si devono nascondere o tutti penso una domanda di Enrico Costa al volo che chiedeva Corinna ci parli un po' della dualità di Babylon si quale delle tante nel senso se può fare una specifica specificaci cosa intendevi intanto Sara ti ringrazia della risposta Michele invece dice che rapporto aveva Crowley con lo yoga e questo suo rapporto ha avuto qualche influenza nella filosofia telemica si Crowley aveva un rapporto fondamentale con lo yoga e ha scritto anche delle cose molto interessanti sullo yoga un mio carissimo amico che è maestro di yoga ritiene che Crowley sia una di quelle poche persone che lo yoga lo ha capito su serio Crowley ha viaggiato molto come noi sappiamo la sua dottrina se vogliamo chiamarla dottrina ma senza diciamo un'accezione negativa perché poi oggi bisogna stare attentissimi a come si parla è peggio dell'epoca vittoriana cioè dottrina in senso positivo naturalmente è esito dei molti stimoli che lui ha ricevuto viaggiando dall'India al Messico in giro per il mondo e naturalmente ha incontrato anche lo yoga ora incontrare in generale le filosofie orientali in una Inghilterra di fine ottocento era Savasandir cioè è già stata la società teosofica però lui viaggia molto e arriva a una conclusione che a mio avviso è fondamentale cioè che lo yoga sia la magia quindi ancora una volta ritorniamo all'inizio tramite un'ottima domanda ancora una volta e anzi faccio i complimenti alla società dello Zolfo per l'ottimo pubblico che ha e le belle domande che fanno lo yoga è la magia quindi torniamo a che cos'è la magia in Croley è lo yoga e lo yoga che cos'è è la capacità di elevarsi a un'armonia a un'unione tale con col cosmo da essere un tutt'uno con la necessità universale perché questo in sostanza è lo yoga e Croley nel percorso telemico in diversi liberi ma anche in tanti punti offre una serie di pratiche che sono precisamente riprese dalle pratiche yogiche dunque fare bene ipoteticamente un percorso telemico dovrebbe anche comprendere una certa disinvoltura certamente con con la pratica yogiche anche perché poi all'inizio del magic tra l'altro abbiamo citato il magic tante volte per l'appunto per l'appunto l'inizio del magic parte proprio diciamo con che sono un po' una base diciamo ora Matteo ci chiede salve Corinna volevo sapere se secondo te ci sono corrispondenze tra la definizione di volontà di Schopenhauer e quella di Crowley in Teleman bella domanda eh sì bella domanda e stiamo qua un'altra ora ciao Matteo grazie come stai spero che tu stia bene lo conosco Matteo allora è molto veramente complessa la risposta dunque Schopenhauer è stato in un certo quel senso il papà della psicanalisi Freud stesso riconosceva Schopenhauer in questa paternità nelle sue lettere Schopenhauer va ad esumere il concetto di volontà con una notevole contaminazione da alcuni elementi delle filosofie orientali io penso che però il concetto di volontà di Crowley non sia sovrapponibile a quello di Schopenhauer io penso che Crowley intenda sempre rimaniamo con Schopenhauer per volontà la conciliazione fra il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione credo che per Crowley la volontà sia il ponte gettato fra questi due elementi quindi la vera volontà è la tua cifra la tua struttura potremmo dire in un certo senso è il divino Deus Sive Natura la mia gatta fa la sua vera volontà il problema è mio che non riesco a eseguirla direbbe Crowley ok cioè la mia gatta lo dico io perché è lì nel suo box che sta facendo l'adegenza perché ha fatto un'operazione però fa la sua vera volontà un fiore quando sboccia fa la sua vera volontà il problema è che l'essere umano essendo appunto contratto fra il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione andiamo quindi in Schopenhauer per i fan di Schopenhauer ha molta difficoltà nello scoprire e nel mettere in opera la vera volontà in teoria diciamo Crowley ipotizza un illuminato dovrebbe essere colui la cui vera volontà coincide col destino cioè coincide con la necessità universale quindi è la buddità fondamentalmente no alla perfetta armonia col tutto bene resisterò a tutto perché alla fine non c'è niente a cui resistere bene direi allora andiamo avanti e tra l'altro hai già risposto a una domanda che avevano sempre chiesto sull'uolo della donna dunque vediamo un po' questa questa è una domanda un po' più diciamo si va un po' più nel particolare l'ha fatta Marco Leoni te la leggo ed è ciao Marco la mia domanda è su quale è in estrema sintesi il punto di distacco di rottura tra la via iniziatica la golden dawn e quella di telema ecco giustamente Marco ha scritto in estrema sintesi perché era già preoccupato quindi ha preso una poltrona e si è messo comodo però saperne leggere e scrivere le sottolineo in estrema sintesi ma io credo che in estrema sintesi ma proprio in estrema sintesi sia però un po' del mio ce lo devo mettere se me lo permettete sia che obiettivamente telema è davvero innovativa cioè nel senso se io adesso facciamo finta che la golden dawn non sia mai esistita se io prendessi la macchina del tempo e dovessi tirare e indovinare su un ordine iniziatico presente nella londra di fine ottocento io mi immaginerei esattamente una golden dawn questo cosa significa? Significa che la golden dawn è stata importantissima non sto svilendo la golden dawn che da un punto di vista filosofico letterario eccetera è stata io vorrei ricordare i personaggi che giravano dentro la golden dawn non pizze fiche voglio dire anche molto migliori di quelli che sono girati e girano in telema per cui per carità del cielo non sto svilendo è assolutamente però la golden dawn è stata l'apoteosi dell'era vittoriana l'apoteosi di quello che era il suo tempo per l'approccio artistico è stata la sintesi del romanticismo inglese di fine ottocento e come tale nel suo inizio era la sua fine naturalmente io credo che Crowley abbia precisamente visto questo nella golden dawn ha visto questa magnifica capacità perché poi lo scrive anche di creare dei rituali che trasudavano veramente il senso del sacro ma giravano dei premi nobel che gli mettevano a posto i rituali vorrei ricordarlo a quelli della golden dawn però però è finita quando è finito l'anzian regime è diventata credo non storica velocissimamente mentre invece telema io credo che sia adesso pienamente in qualche modo presente in tanti aspetti ecco mettiamola così che un Crowley ma anche un Nietzsche avevano ampiamente un Emerson preconizzato anche appunto uno Schopenhauer bene allora scusami stavo perché stavo guardando le altre domande e sono allora ecco questa è bella va bene allora di medesimo d'Alessandro punti di contatto divergenza tra la figura di Babalon e Babilonia la grande di grande biblica ma allora bella domanda anche questa devo dire complimenti a un pubblico preparatissimo col quale è un piacere parlare ma allora in Crowley abbiamo una quantità di riferimenti biblici enormi pensiamo al colloquio con Iwas questa rappresentazione e questo mito meraviglioso del sopraggiungere anche a molti elementi biblici l'atto stesso di voltarsi molti elementi biblici apocalittici il riferimento appunto a Babilonia la grande il riferimento alla bestia eccetera eccetera quindi Crowley ha e giustamente ha per il suo tempo e non solo per il suo tempo per altre ragioni attinge a piene mani dal bacino immaginifico della mitologia cristiana della mitologia ebraica e lo fa con cognizione di causa non lo faceva solo lui naturalmente lo facevano in tanti soprattutto in quel periodo soprattutto che avevano a che fare con le discipline dell'esoterismo però come al solito poi lui prende ma innova completamente quindi sicuramente c'è secondo me c'è soprattutto in una prima fase della sua vita il prendere un po' queste figure di biblica memoria farne un po' la bandiera del suo essere un po' l'enfant terrible dell'epoca vittoriana anche un po' insomma con quella voglia di provocazione che ha anche un senso strutturato in quel periodo storico poi però prende queste figure e ne fa qualcosa di eccezionalmente complesso perché Babalon con questa A sulla cui A non starei A perché sappiamo tutti che è una faccenda molto complicata tecnica della filosofia croleiana di fatto però anche se si chiama perché poi quella è la ciccia come la donna dell'apocalisse la Babilonia insomma tutte le robe lì però di fatto è una Shakti e la grande è Parvati è Calì è la rappresentazione di quella energia creativa che dà luogo al mondo fenomenico infatti nella rivisitazione degli arcani che Crowley fa grazie anche alla pittrice Frida Harris che non a caso anche questa è un'opera della sua maturità c'è una bellissima immagine di Babalon che cavalca questo leone e rappresenta proprio questo concetto filosofico cioè l'energia creativa l'impulso libero e creativo che viene informato dalla Shakti femminile viene informato dal principio ideativo femminile si tratta naturalmente di riferimenti molto complessi che poi vanno vagliati con una collazione sicuramente con la filosofia orientale induista taoista però ecco per dire insomma non c'è mai nulla di banale in Crowley bene continuo con le domande allora io rispondo in modo molto sintetico essendo che te ne hanno fatte tante va benissimo direi tanto hai risposto alla domanda che ti hanno fatto dunque Alessandro Castaman che tra l'altro ci segue sempre lo saluto scrive buonasera grazie ancora per questo ulteriore diretta personalmente vorrei approfittare per una domanda molto specifica Corinna e chiedere che cosa si intende esattamente in telema con santo angelo custode la conversazione da ottenere con quest'ultimo e il concetto di attraversamento dell'avesso grazie Alessandro io ripeto adesso ne scelgo una a casa e facciamo un'altra diretta devo dire che sono tutte delle domandone non delle domandine domandone nel senso che tra l'altro si sta verificando per chi ci crede devo dire una sincronicità molto bella e cioè che stanno venendo fuori secondo me tutta una serie di domande che sono forse quelle più interessanti per capire il pensiero di Crowley quindi devo dire in quanto tali ovviamente anche mi spiace doverle liquidare in cinque minuti il concetto di santo angelo è un complesso scusate è un concetto estremamente complesso nella sua semplicità nel senso che nella sua semplicità è il maestro interiore figura presente in tutta la storia delle religioni in tutte le vie spirituali il se stesso reso perfetto in realtà nella sua semplicità oddio da dove parto è una figura complessissima dunque Crowley mette in campo tre figure interessantissime nella via iniziatica l'iniziato Coronzon e il santo angelo ora queste tre figure ripercorrono i tre elementi chiave che si trovano nelle fiabe nei miti e che fanno parte se noi se noi prendiamo la classica definizione antropologica del rituale tripartito del rituale iniziatico tripartito l'iniziato è il protagonista il protagonista ha due forze l'avversario il guardiano della soglia tra l'altro mi aveva chiesto Davide Marret che è il presidente del circolo dei trivi che si occupa della wicca in Italia come centro Milano di scrivere un articolo sul guardiano della soglia quindi se qualcuno è interessato avevo scritto un articolo magari se chiedo il permesso magari lo potrei anche postare lasciamo un po' di anche bibliografia proprio in generale sotto i video non mi ricordo su che rivista era uscito però l'avevo scritto questo vabbè è Mork della storia infinita l'avversario della soglia è il custode della conoscenza è Maya è il velo di Maya ok è la mutevolezza ingannevole della realtà nella sua molteplicità poi c'è il soggetto il soggetto è il ponte fra questa rappresentazione cioè l'iniziato e la totalità del sé riappacificato col mondo che è il santo angelo ora però e già questo non è semplice di per sé ora però vanno fatti due ordini di considerazioni sulla filosofia croleiana la prima crole riprendendolo dalla golden dawn ma non solo spalma la via iniziatica sull'escaim sull'albero dei viventi cabalisti e pone l'incontro col santo angelo nella sfera cosiddetta di tiferet ora sicuramente fra il tuo pubblico molto colto tu avrai dei baldi cabalisti i quali sapranno sicuramente che cosa è tiferet quindi lo do per scontato che tutti sappiano che tiferet è il luogo di realizzazione dell'aissanomai ok dello shorat dello spirito del sole questa realizzazione dell'estetica dell'iniziato rappresenta del fondamento dell'atto di esistenza dell'iniziato stesso e c'è tutto un aspetto secondo me interessantissimo dell'estetica telemica che dà un senso veramente secondo me poco intuitivo ma molto bello da scoprire a leggere proprio una storia dell'estetica del tele ma però non l'ha scritta nessuno nel senso bisogna cavarsela un po' da soli capire veramente che senso ha questo incontro che si fa nella bellezza nell'esercizio dell'aissanomai c'è un'altra considerazione avevo detto due considerazioni da fare la seconda è questa Crowley è stato influenzato più di quanto non si creda dai suoi viaggi in Messico c'è stato un lavoro io non amo citare quando non mi ricordo il nome sono costretta a farlo ho letto recentemente un lavoro un'attesi di dottorato dell'università di Amsterdam mazzo non mi ricordo chiedo scusa su Crowley e sul suo rapporto con le religioni messicane cioè questo per dire che non è che lo sto dicendo io è qualche cosa che in molti considerano io direi che sotto certi aspetti il santo angelo assomiglia però nella sua descrizione naturale nella sua fattualità persino a un animale di potere cioè è qualcosa a metà fra la proiezione del se stesso reso perfetto il summum bonum il guardiano della soglia perché poi è chiaro è l'identità fra la ricompensa e il mandante della prova quindi fra Adonai e Coronzon fra il santo angelo il santo angelo e Coronzon fra il santo angelo e Coronzon però è interessante il fatto che Crowley lo oggettivizzi a mio avviso con un richiamo interessante alle procedure delle religioni mesoamericane spero di aver dato una sicur minima risposta sono veramente discorsi lunghi direi di sì anche perché sì appunto penso che quello che poi se la diciamo le risposte vengano diano un'idea tu puoi andare a fare chiaramente delle ricerche personali e ti farei le ultime due domande che vedo qua che mi piacciono che sono una sempre di Marco Leone che conosci anche tu ed è possibile dare qualche pillola dell'esperienza in Messico di Crowley e quindi del rapporto con lo sciamanesimo ma dunque noi sappiamo che Crowley è in Messico nel 1900 sappiamo che incontra Medina che è un personaggio molto interessante sappiamo che fonda la Lille che è il suo primo ordine che concilia molti aspetti delle filosofie mesoamericane con quali che erano i pensieri di un giovane Crowley sappiamo che in quel periodo entra in contatto con le tradizioni mesoamericane e con la massoneria di quei luoghi sappiamo che importa in occidente il peyote sappiamo che diversi studiosi gli attribuiscono di aver creato una religione del peyotismo in realtà cioè che però non nel senso cioè adesso io vedo che voi avete un pubblico di un certo tipo quindi chiaro non mi perdo a spiegare che il peyotismo non è la religione dei fattoni che gli attribuiscono il fatto che Televa sembri molto una religione sciamanica travestita dal linguaggio delle tradizioni esoteriche occidentali poi ognuno si fa l'idea che si deve fare naturalmente vero non vero non è quello che ci riguarda stasera ok e poi c'è una domanda di Matteo Simonini che chiede ciao Corinna volevo sapere se è vero che ogni atto di intento è un atto magico secondo Crowley sì il punto cos'è l'intento nel senso sempre secondo Crowley naturalmente io non parlo di me io faccio lo studioso parlo di Crowley Crowley come torniamo ancora al magic lo spiega molto bene un atto d'intento è un atto magico bisogna però capire cos'è l'intento che cos'è il vero intento e allora qua citiamo ancora altri due opere Carlos Castaneda Caspiterina che di quello che poi Crowley chiama l'atto di volontà ne fa il fulcro di un'epopea di dieci o dodici libri il volere dello sciamano e torniamo allo yoga l'atto del Buddha quindi atto d'intento inteso in questo senso naturalmente ma direi che appunto questo intervento non mi ricordo il nome di chi l'ha fatto Matteo perché io non lo vedo devo dire che è un ottimo spunto per tornare a quello che si diceva prima no cioè cos'è la magia per Crowley è un atto di vera volontà poi è chiaro che un atto di vera volontà capire che cos'è soprattutto eseguirlo è qualche cosa che naturalmente non può essere liquidato in dieci minuti perché perché chiaramente tiene la totalità della filosofia croleyana l'arte e la scienza di causare mutamenti in conformità con la volontà che è uno delle più frequenti aforismi di Crowley andrebbe vagliato parola per parola io avevo fatto qualche tempo fa forse qualche anno fa una un'intera conferenza su questa frase avevo preso parola per parola parola per parola l'avevo sviscerata fino a portare a capire il senso di questa frase che addirittura per certi aspetti è l'esatto opposto di quello che sembra e ci ho messo due ore e quaranta ma questo ma questo per dire semplicemente appunto che il pensiero di Crowley è talmente complesso e sfaccettato che bisogna stare veramente molto 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 attenti perché Crowley è molto fraintendibile perché a volte lui per spiegare concetti complessi usa delle frasi molto semplici e allora ci si illude molto facilmente di capirlo pensiamo al motto il famoso faccio che vuoi e tutti si dimenticano che dopo arriva sarà tutta la legge sarà cioè che non quindi non vuol dire fate ecco sarà tutta la legge cioè la realizzazione della vera volontà sarà nel futuro l'unico nomos l'unica lezzeia l'unico principio di verità di ogni Buddha che cazzo c'è da dire cioè telemita o no c'ha ragione nel senso sia fatta la tua volontà ovedio non è visto all'esterno ma è visto nell'uomo e adesso obiettivamente Crowley può piacere o non piacere ma sfido chiunque a dire che c'ha torto in questo ecco poi io mi occupo di Crowley come studioso questo non vuol dire che io Crowley mi piaccia non mi piaccia cioè non sono qui ovviamente a parlare però adesso obiettivamente insomma va detto che sono una serie di cose sicuramente ecco rimanendo nel tema della volontà per esempio Crowley anche se è una roba che butta lì poi per fortuna non recupera più Lega il Gargantua e Pantagruel la basea di Telema ha il suo concetto di Telema secondo me lì Crowley fa una gaffe terribile perché secondo me è l'esatto opposto adesso dovremmo stare a parlare di filosofia naturale e non è il caso però diciamo che ha ragione in Trovigni e Crowley è anche un geniato che faccio e obiettivamente il faccio che vuoi beh insomma stava Sandino bene allora tutte le persone chiaramente a cui hai risposto ti ringraziano io voglio ringraziarti intanto a nome della società dello Zolfo di essere stata qua con noi stasera grazie a voi grazie a voi grazie per avermi invitato e ringrazio anche tutte le tantissime persone che hanno seguito questa questa diretta sono sicuro che avrete trovato degli spunti interessantissimi per iniziare a approcciarsi alla filosofia di Telema saluto anche tra l'altro gli amici del CTA 102 che erano qua con noi e niente noi con la società dello Zolfo adesso a brevissimo vi daremo faremo l'evento insomma per quanto riguarda la prossima conferenza per tenervi aggiornati abbiamo sia la pagina Facebook sia la pagina Instagram e soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube dove stiamo lavorando per buttare fuori qualcosa di molto carino a brevissimo vi ringrazio ancora a tutti e ci vediamo quindi alla prossima conferenza grazie grazie ciao grazie